E stamattina voglio dare il benvenuto a un caro amico Federico Fabrizio, biologo ricercatore che è collegato con noi e che è il founder di una delle pagine community Instagram più seguite nell'ambito della ricerca scientifica. Ciao Federico, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Questa mattina con te caro Federico vogliamo parlare di un tema molto interessante che ci riguarda, riguarda tutti ovviamente da vicino, nello specifico l'attività fisica e anche il suo ruolo preventivo nell'ambito appunto della prevenzione, non solo delle malattie ma anche di uno stile di vita sano, anche perché siamo in primavera inoltrata, le belle giornate fortunatamente ci stanno aiutando, purtroppo le previsioni ci dicono che nei prossimi giorni ci sarà un po' di freddo ma avremo tanti giorni davanti per poter riprendere in maniera seria direi l'attività fisica all'aperto che è una pratica che non deve essere come dire confinata solamente a pochi mesi dell'anno ma che deve essere perseguita durante tutti 365 giorni. Allora partiamo dal generale, quali sono i benefici appunto dell'attività fisica e come la scienza supporta questo tipo di attività? Intanto sì è un piacere discutere un argomento che non dovrebbe passare inosservato, è sensibilizzare la popolazione verso un tema, quello dell'attività fisica e della prevenzione è importante perché lo sport offre un enorme potenziale quindi quello di cui si dovrebbe parlare di più e lo sport intendo qualsiasi sport anche una semplice camminata perché può aiutarci a prevenire delle malattie che a distanza di tempo possono cronicizzare di modo che possiamo aggiungere la vita agli anni e non solo gli anni alla vita. Ritornando ai benefici sono molteplici e la scienza parla chiaro su questo perché basterebbe pensare che praticare sport regolarmente aiuta a mantenere non solo il peso sotto controllo ma anche può aiutarci a prevenire delle malattie cardiovascolari quindi oltre all'insorgenza di diversi tipi di tumore, ridurre il colesterolo cattivo quello che chiamiamo colesterolo LDL, rinforzare la densità ossea e la massa muscolare, rafforzare il nostro sistema immunitario contro diversi tipi di infezioni o migliorare anche le capacità di apprendimento e la memoria quindi le nostre abilità cognitive portando a una migliore ossigenazione di tutti gli organi e ridurre anche alcuni sintomi come ansia, stress, depressione e la solitudine quindi ci aiuta a socializzare. In Italia è in aumento l'aspettativa di vita ma anche la sedentarietà che è il quinto fattore di rischio di contrarre delle patologie quindi dobbiamo impegnarci e riuscire a diffondere l'esercizio su larga scala su tutta la popolazione visto che circa un terzo degli italiani non svolge regolarmente un'attività fisica diciamo necessaria o almeno ai limiti storici. Ecco appunto dicevi un terzo degli italiani non svolge attività fisica sta aumentando la sedentarietà però qualcuno potrebbe obiettare sì dottor Fabrizio però io non posso permettermi di pagare l'abbonamento in palestra. Che cosa ti sentiresti di rispondere a chi magari fa questa obiezione quasi anche un po' giustificando il fatto che non possa fare attività fisica? Certo lo sport è gratuito quindi parliamo di prevenzione primaria che è uno strumento fondamentale per limitare per contrastare l'insorgenza di malattie croniche nella nostra era e molto dipende da alcuni fattori che sono modificabili perché possono impattare positivamente o negativamente sui nostri stili di vita quindi circa il 50% dei casi. Questo vuol dire che possiamo unire al movimento fisico gratuito anche un'alimentazione equilibrata la cosiddetta dieta mediterranea quindi cercare di aumentare il consumo di ortaggi frutta di stagione e limitare il consumo di carni rosse mangiare più dei cibi ricchi di omega 3 quindi cercare anche di ridurre il consumo di alcol eliminare il fumo e anche cercare di controllare meglio il ritmo sonno veglia a dormire almeno quelle sette ore a notte quindi al fine comunque di prevenire tutta una serie di patologie non solo tumorali ma anche metaboliche e cardiovascolari quindi in tutte queste situazioni le evidenze scientifiche affermano che ci sono dei benefici che ovviamente sono in gran parte dipendono in gran parte dall'esercizio fisico e hanno un peso scientifico non indifferente. Federico noi siamo ormai proiettati verso il cambio di stagione qualcuno dice le mezze stagioni non esistono più si passa dal caldo africano al freddo polare nel giro di pochissime ore insomma siamo in una situazione un po' altalenante da questo punto di vista e purtroppo anche il nostro organismo non è tra virgolette abituato a questi sbalzi e quindi potrebbe risentirne in qualche maniera provocando non so se è giusto dire dei danni ecco adesso magari mi aiuterai tu correggendomi con dei termini appropriati allora ci sono dei fattori dei comportamenti che possiamo adottare questo lo diciamo anche a beneficio delle persone anziane che ci seguono che sono tante che in qualche maniera avvertono ancora di più questi cambi repentini a cui purtroppo non sono abituati guarda l'approccio è quello anche inserito nelle linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità è aggiornato circa un paio di anni fa che prevede la raccomandazione per tutte le persone adulte anche delle persone over 60 65 è quello di svolgere un'attività fisica moderata variabile dei 150 e 300 minuti settimanali o dei 75 150 per l'esercizio più vigoroso e l'obiettivo certo è quello di muoverci di più perché lo sport e l'attività fisica possono aiutare a vivere più in salute molto più a lungo infatti ippocrate diceva se potessimo dare ad ogni persone giusto nutrimento e la giusta quantità di attività fisica avremmo trovato certamente la strada per la salute ma la strada per la salute in salita è una strada che dobbiamo costruirci noi tutti i giorni e di cui ci dobbiamo sentire responsabili quindi va benissimo l'attività fisica ma cercare di intervenire su quelli che sono dei fattori modificabili che stavo dicendo prima che possono essere degli stili di vita non corretti ad esempio limitare appunto il consumo di alcolici eliminare il fumo di sigaretta o ad esempio cercare di integrare un maggior rapporto di sali minerali anche che troviamo generalmente negli ortaggi e nella frutta quindi cercare di nutrirci con dei cibi che hanno delle proprietà antiossidanti quindi tutta una serie di consigli che potrebbero essere utili però se riusciamo ad unire entrambe le cose l'attività fisica e altri fattori che possono sicuramente aiutarci a vivere meglio e più a lungo quindi ecco in in sintesi dalle tue parole Fabrizio Federico emerge chiaramente che davvero possiamo considerare l'attività fisico sportiva una vera e propria medicina preventiva? Sì è importante considerare l'attività fisica perché noi la percepiamo come solo un divertimento oppure come un gioco per impiegare il nostro tempo libero in realtà è un vero e proprio tassello fondamentale di quello che viene definito ci permette di raggiungere uno stile di vita sano salubre è un esercizio fisico che ovviamente può essere considerato come un farmaco in quanto l'attività fisica e l'esercizio possono essere una vera e propria medicina per tutta la popolazione perché arrivano a tutti e anche nel contrastare tutta una serie di patologie quindi lo sport è inclusivo e allo scopo anche di diffondere la cultura dell'attività fisica come terapia quindi deve essere una iniziativa che deve coinvolgere tutti e deve partire da ciascuno di noi già da piccoli e questo bisogna cominciare veramente da molto piccoli questo magari poi un altro capitolo importante che toccherà aprire in quanto dalle parole appunto anche di molti esperti che sono passati a trovarci a volte i bambini non sanno neanche correre vero invece magari quelli di una certa generazione non credo non so le vostre federico federico insomma abbiamo un'esperienza sui campi polverosi girocchia sbucciate o si giocava nei cortili all'elastico a pallone insomma un mondo un po' diverso c'era tanta attività fisica all'epoca forse troppo quindi bisognerebbe forse ritornare un po' a questo verso insomma quella attenzione ai più piccoli allora federico noi ti salutiamo e ti ringraziamo di cuore non prima però chiedo alla regia di rivedere insieme lo screen della tua pagina instagram pillole di ricerca scientifica che ecco racchiude un po' il senso della tua attività divulgativa perché davvero ci sono tanti spunti di riflessione attraverso appunto quella che dicevo essere la tua attività professionale e di ricerca e dunque ai nostri amici l'invito a mettere semplicemente di tappare il tasto segui e di far parte di questa community che davvero contiene tante tante curiosità alcune su dei temi estremamente difficili ma che tu grazie appunto alla tua capacità di sintesi e di divulgazione riesci a rendere davvero molto molto come dire alla mano e allora per questo ti ringraziamo di cuore lo faccio in tempo reale pillole di ricerca scientifica ecco qui segui benissimo grazie dove sei dove stai lavorando adesso federico non te lo abbiamo chiesto allora sono all'istituto europeo di oncologia e all'università di milano ho una funzione sia a livello di ricerca che di didattica bene buon lavoro grazie per quello che grazie per quello che grazie grazie federico un abbraccio forte ci rivediamo presto grazie grazie buon lavoro ciao grazie grazie a federico andiamo in pubblicità grazie a tutti